Il mondo di un individuo C'è uno sport dove ogni giocatore è un fuoriclasse, ma senza i compagni è perduto. È uno sport dove ogni giocata è una sfida, perché la palla è ovale e non sempre rimbalza come vorremmo. Perché l'avversario è forte e merita tutto il nostro rispetto. Perché bisogna dimostrare sia audacia che controllo, sia passione che lealtà. In questo sport ogni giocatore sin da bambino sceglie da solo il proprio ruolo, perché ogni giocatore è artefice del proprio destino. Ma ogni giocatore sa che avrà sempre al fianco la guida del suo allenatore, che non lo lascerà mai. E sa che la squadra sarà sempre la sua famiglia e anche la squadra non lo lascerà mai. Non è uno sport per tutti, ma è pronto ad accogliere in un abbraccio tutti coloro che ci metteranno il cuore. Perché questo è anche uno sport di cuore, di sacrificio e di passione. Questo sport racchiude tutto un intero mondo, tutto un modo di vivere. E alla vita può insegnare regole, forza, impegno, solidarietà. C'è una vita dove tutto questo è già possibile, dove tutto questo è già realtà. Ogni volta, ogni partita, ogni giorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.